L'applicazione di un regolamento approvato dal Consiglio Comunale che interviene sui giochi leciti per evitare che essi degenerino in gioco d'azzardo patologico, il regolamento fissa delle distanze minime fra un luogo che offre gioco e punti sensibili, un banco, una chiesa, una scuola e nello stesso tempo lo stesso regolamento fissa un orario di apertura dell'offerta di gioco tale da delimitare l'accesso alle fasce più deboli, per esempio il ragazzo terminato alla scuola o l'anziano o altri. La ludopatia è un problema sempre più allarmante, soprattutto in regioni come la Campania, che ha il tasso più alto di minori affetti dalle patologie del gioco ed un giro d'affari di 9 miliardi di euro, contando solo a Napoli oltre 100 sale da gioco e oltre 2500 locali con slot machine. Da quando la patologia del gioco d'azzardo è stata introdotta nei livelli essenziali di assistenza offerti dal Sistema Sanitario Nazionale, si sono moltiplicate le iniziative di ASL e Terzo Settore, che si sommano a quelle delle amministrazioni locali. I comuni da un lato possono cercare di contenere l'offerta, mentre i servizi sanitari possono offrire cure appropriate per evitare ogni forma di dipendenza. Ed il Comune di Napoli, come abbiamo sentito, ha già previsto, fra le altre, regole specifiche per la distribuzione dei locali del gioco d'azzardo e per gli orari di apertura. Oggi, in un convegno a Palazzo San Giacomo, si mettono a confronto queste esperienze amministrative con quelle promosse dalla ASL Napoli 1. Abbiamo predisposto agli spazi dedicati, spazi riservati alla tutela della privacy, possibilità in due strutture specifiche di poter fare dei programmi intensivi per i giocatori che hanno problemi particolarmente gravi, sia legati all'area economica, sia legati all'area psicopatologica. Sono due centri diurni, il centro Lillibut e il centro Artete che sono collocati nell'area orientale della città, nei quali è possibile realizzare dei programmi più intensivi, sia di gruppi di giocatori, familiari, tutoraggio per tutti gli aspetti economici, naturalmente counseling individuali, sono delle attività di animazione che hanno la funzione di ristrutturare il tempo, che è un compromesso, diciamo, dal rapporto con le attività del gioco d'azzardo. Sui principi generali la posizione dell'amministrazione è netta contro le ludopatie e le attività illegali. Su questo non è solo una posizione politica, abbiamo innestato atti concreti, risorse in bilancio per favorire gli esercizi commerciali slot free, delibere di giunta, regolamento di consiglio comunale. Noi non sfugge che ci siano anche delle ricadute che non hanno nulla a che vedere con i fenomeni criminali e con le ludopatie, che può essere persone che lavorano presso alcuni esercizi. Quindi con questo monitoraggio che abbiamo messo in campo attraverso l'assessorato di Enrico Panini al lavoro e le attività produttive, stiamo verificando come intervenire per disciplinare meglio gli orari degli esercizi commerciali, ovviamente quelli non illegali ma legali. Quindi questo è il lavoro di questi giorni. Fermo restando che c'è anche un contenzioso, come sapete, aperto presso il Tare e il Consiglio di Stato che fino a ora ci ha visto vincenti. E quindi, come dire, moduliamo anche a seconda di quelli che sono gli orientamenti giurisprudenziali, anche le istanze e le proposte che vengono da alcuni esercizi commerciali, perché non mi accodo comunque a ritenere che siano tutti dei delinquenti, tutti insomma di mascalzoni. Anche là dentro c'è gente che vuole lavorare, vuole lavorare una cornice di legalità e se si rispettano le leggi poi non bisogna fare tutto un erbo in fascia e mettere insieme chi ha comportamenti illegali con chi invece rispetta le norme.